Firmato questa mattina a Verona Fiere l'accordo che prevede il debutto di Vinitaly Preview a New Delhi il prossimo novembre. Parte così il piano biennale che potenzierà il Made in Italy nel paese asiatico. Siamo nel cuore di Vinitaly, la fiera più importante del vino italiano nel mondo e oggi abbiamo un occhio rivolto anche al mercato internazionale dove siamo già presenti in Cina, negli Stati Uniti e nel Sud America, oltre che ovviamente in Europa e oggi firmiamo un accordo per andare in India, un paese altamente strategico sia da un punto di vista istituzionale, politico e commerciale. Crediamo fortemente in questo accordo perché riteniamo l'India per noi un paese target. India e Italia hanno avuto una storia lunghissima di commercio tra i due paesi. Storicamente vino e pepe sono stati i prodotti più importati da entrambi i paesi, quindi pepe dall'impero romano da India e vino è stato esportato dagli europei che andavano a commerciare in India. Ci fa tanto onore firmare questo accordo con Verona Fiere per fare Vinitaly India che sarà fatto quest'anno in novembre.